Oggi giornata dedicata allo sci alpinismo, nevica, tempo brutto, nebbia e io sto salendo da mille metri fino a duemila con le pelli di foca sotto gli sci. Uno uscì dopo l'altro, come la passaggiata no, nordica e si alternano le braccia, bisogna fare poca pressione perché ogni pressione è uno sforzo.